Salta la prima panchina nel girone B del campionato di promozione, ufficializzato dalla società del Mociano, l'esonero di Damiano Cianfagna, dopo la pesante sconfitta contro il Piano della Lente. La società si era concessa 48 ore di tempo per riflettere, per arrivare alla fine ad una conclusione. Dopo tre giornate disputate, i giallorossi hanno tre punti in classifica, frutto di una vittoria e due sconfitte, sette gol realizzati e otto subiti. Le aspettative del sodalizio mocianese erano diverse, così il presidente Nino Ciccioni, in mattinata, ha preso la decisione di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra, mister Cianfagna. Al suo posto è stato contattato Gennaro Grillo, si tratta di un ritorno per l'esperto allenatore che è pronto a risollevare le sorti dei giallorossi. Il Mociano è una squadra allestita per recitare un ruolo di primo piano alle spalle delle città di Teramo. La società ha investito su giocatori di esperienza, come ad esempio Puglia, autore di un gran gol nella sfida con la piano della lente. Il tempo per risalire la china c'è, ma bisogna fare subito bottino pieno nel prossimo turno di campionato, quando allo Stadio Rodi arriverà il Villa Mattoni.